E' stato fatto qua! La vera è che hai scanzato! Luca che ti mi scanzi? Ma non sei la persona che mi sa che la macchina è che si scava, vannaccia! Vai vanno su, vannaccia! Suttalo! Ma non vuoi, ma sono le macchina! Mi faccio vedere adesso! E' buono! Oh ma l'altro è scusa! Oh! Oh! Davide smettila! Stai facendo la scena! Ma come? Ma in serio? Ma in serio? Ma in serio? Discosso! Stai facendo! Stai facendo! No! Tu con la macchina! E' l'ho detto cinque volte! C'è non vuoi ne studiare! Non vuoi ne studiare! Si non vuoi ne facendo치 ma. Ma in gente non vuoi ne studiare, ma? C'è notavano tutti! Ma di musste! Non vuoi ne studiare io! Scenare! C'è no! D нравi non? 'diai di blogi! AllaroadADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAMAN工作!